Il mio nome è Angelo Cossato, direttore tecnico di Co-Project. Co-Project è una compagnia conosciuta nel settore automotivo all'interno del mondo ed è specializzata in designare una macchina di manufattura per metallo formato. Come roll forming, stretch and bending e applicazioni speciali. Siamo molto ben considerati sul mercato grazie alla completa flessibilità delle nostre macchine. Questa flessibilità è ricevuta da un approccio modulare, controllo meccanico, controllo e applicazioni software. Stiamo mostrando alcuni esempi, iniziando da una macchina di stretch and bending 40 ton con un cambiamento rapido. In meno di 30 minuti avremo una nuova produzione, semplicemente cambiando un strumento. come un secondo esempio. Ora puoi vedere una linea di macchina complessa che include 100 toni di stretch and bending, diversi corti e trasferi di trasferimento. Per avere una modulare completa della nostra macchina, usiamo l'accopos motor, il drive decentralizzato da B&R. In generale, l'hardware e il software da B&R permettono di ridurre fortemente il tempo di entrega. Sono Alessandro Mancini, direttore di Co-Project Group. Voglio mostrarvi due punti importanti del nostro sistema dal punto di vista di software e di automazione. Prima è la flessibilità. In effetti possiamo cambiare le parti meccaniche e elettriche, e la flessibilità. Con il nostro HMI possiamo modificare facilmente tutti i parametri sui CNC, l'acqua e le valve idrauliche. Il secondo punto è la mantenza. Possiamo vedere cosa succede durante il ciclo di macchina e detestare immediatamente un problema possibile e lo soltarlo. Finalmente, con SDM, System Diagnostic Manager di B&R, un operatore non scelto può controllare le condizioni di macchina in un modo grafico e intuitivo. La integrazione completa della tecnologia di B&R simplifica tutte le operazioni di servizio con l'automatico di hardware, l'update di firmamenti e così via. Per questo motivo, consideriamo B&R un buon partner per la nostra tecnologia. See you on your next car! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!